Volevo vincere il premio Nobel per l'economia. No, no, lo dici davvero? No, no, ero anche bravo, non dico lì lì per farlo, però ero nella giusta... ha prevalso il mio amore per la politica e il premio Nobel non lo vincerò più. Nessuna recessione mondiale, l'Europa dovrebbe riprendere a crescere a ritmi elevati già nella seconda parte di quest'anno, occorre che il prossimo governo rilanci l'economia italiana, soprattutto rilanci i consumi. Quello di oggi è il dato peggiore dal 1980 ad oggi, da quando ciò esiste il dato Istat sulla crescita della produttività in Italia. Nel quarto trimestre del 2008 il PIL è diminuito dell'1,9% rispetto al trimestre precedente, del 2,9% rispetto al 2007. Mai un calo così forte, stiamo vivendo il peggio degli ultimi 29 anni di storia del nostro Paese. Buongiorno, buongiorno. Onorevole e beato tra le donne, posso dire? Eh, le più belle.